Messa in archivio l'ultima sosta, da adesso in poi non ci si fermerà più e sarà una discesa ripida e emozionante in grado di decidere il destino della Virtus in questa stagione. Coach Pino Sacripanti prepara l'assalto a Venezia, ospite del Paladozza sabato sera sapendo di avere davanti una delle squadre più complete del campionato. Magari non esattamente nel suo momento migliore, con quattro sconfitte nelle ultime otto gare, che potevano essere cinque, non ci fosse stata la clamorosa rimonta coronata a Pesaro. Eppure, comunque, la prima inseguitrice di Milano in classifica è quella in grado di esprimere la miglior qualità nel gioco. Prima negli assist e nei tiri da tre, miglior difesa del campionato con poco meno di 72 punti concessi, la Reier sarà un avversario tosto nella gara che può cambiare le prospettive per la Sega Fredo. Secondo molti, quella che può fare la differenza tra la caccia a uno dei primi 4-5 posti play-off e la rincorsa per stare nelle prime otto senza una buona posizione in griglia. Qualità dell'attacco e atteggiamento difensivo, su questo ha insistito e sta insistendo il tecnico Brianzolo, che tra questa con Venezia e gli ottavi di finale contro Le Mans vivrà assieme al suo gruppo il passaggio probabilmente più delicato e significativo di tutta la stagione. Un mese verità quello di marzo, con sette partite in grado di cambiare tutto.